La fine di tutte le cose è ormai vicina, perciò siate giudiziosi e lucidi di mente per potervi dare alla preghiera. Primo Pietro 4.7 versione della gioia. Vi aspetto tutti i venerdì alle ore 22 in diretta online per pregare assieme e per studiare la parola di Dio solo per mezz'ora. Non mancare a questi incontri divini, non mancare a questi appuntamenti sacri. Tutti i venerdì ore 22 su www.radiofeditalia.it Ti aspetto.